Ciao ragazzi, oggi saltiamo in sella su una naked muscolosa di casa Honda, stiamo parlando del CB1000R la moto che vedete in questo video in condizioni veramente eccezionali, ovviamente è gommata e tagliandata e pronta a partire in tipico stile giudici moto. La moto presenta portatarga e frecce rizoma in conformazioni per il resto completamente originale. Per chi non la conoscesse un propulsore veramente eccezionale, 1.4 cilindri in linea, ovviamente 4 tempi da ben 125 cavalli, monobraccio posteriore che la rende ancora più leggera e accattivante. Honda anche in questo caso ha messo a puntino veramente la trasmissione dando a questa moto una coppia veramente pazzesca, si comporta veramente bene ciclistica e affidabilità al top del livello. Se avete venire a scoprire ulteriori informazioni su questa moto ci troviamo a Caronno per Tosella in via Bensiz 800 o in alternativa sul nostro sito internet giudici moto. Giudici moto, realizza il tuo sogno, scopri la tua prossima moto nella vasta esposizione di usato selezionato e garantito come nuovo. Fatti consigliare e acquista in totale sicurezza. Vuoi vendere la tua moto usata? Richiedi una valutazione. Ti aspettiamo a Caronno per Tosella in via Bensiz 800 e su giudicimoto.it